Continua la polemica sui sacchetti biodegradabili a pagamento per i consumatori, introdotti nei supermercati e nella piccola distribuzione dal 1 gennaio 2018. Ma il caso diventa anche politico, e sui social network si parla della dubbia provenienza di questa legge, che sarebbe stata un regalo a un'amica di Renzi, Katia Bastioli, amministratrice delegata del gruppo Nova Month, il gruppo che produce la materia prima con cui circa 150 aziende in tutta Italia realizzano sacchetti biodegradabili ed ultraleggeri. Il Ministero dell'Ambiente, Giulio Cagalletti, difende invece l'iniziativa del governo, parlando di un atto di civiltà ecologica. In tutto ciò, il Kodakons annuncia che presenterà una diffida al Ministero dello Sviluppo Economico perché autorizzi i consumatori a portarsi le borse per la frutta da casa. Lega Ambiente prova a ridimensionare le polemiche. Troppe bufale e inesattezze sui sacchetti biodegradabili e compostabili, che invece fanno bene all'ambiente, e aiutano a contrastare il problema dell'inquinamento da plastica. La direttiva europea è chiara, ma ogni Stato membro, come ogni direttiva, si muove con le proprie gambe. Accade nel 2011, ai tempi del primo divieto per i sacchetti di plastica, quando anche in quel caso l'Italia si mosse prima degli altri. E adesso, insieme alla Francia, ha deciso di accumularle entrambe, nonostante per le ultraleggere non ci sia l'obbligo di pagare. Sui social è scoppiata una vera e propria rivolta e su Twitter lascia sacchetti e in cima la classifica. Arance, banane e mele pesate ad una ad una. Questo uno dei trucchetti suggeriti dagli stessi consumatori per evitare di pagare i nuovi sacchetti. La norma riguarda piccoli negozi ed imprese della grande distribuzione, che applicheranno sui sacchetti un prezzo compreso tra i 1 e 5 centesimi. Per i trasgressori delle nuove regole è prevista un'assenzione amministrativa pecuniaria dai 2.500 ai 25.000 euro. L'obbligo di pagare i sacchetti sarà inoltre accompagnato dal divieto di riutilizzo delle busse biodegradabili per ragioni igieniche. Per i trasgressori delle nuove regole. Grazie a tutti.